Domenica prossima, 14 giugno a Grotte, presso il centro polifunzionale San Nicola, alle ore 19, sarà presentato il libro di poesie, pensieri e parole, dell'autore appassionato di letteratura e poesia, Yuri Lauria, che ascoltiamo al microfono di Irene Milisenda. Da cosa parte l'amore per la poesia e di cosa trattano appunto le tue poesie? Ma le mie poesie hanno tre temi, la scuola, la famiglia e la preghiera, anche perché purtroppo sono stato male e quindi ho avuto un periodo che ho avuto bisogno di scrivere e di trasmettere i miei pensieri, anche le mie parole come il titolo, in quello che scrivevo. Quindi il tuo libro tratta appunto di poesie incentrate sulla scuola, sulla famiglia? Sì, ci sono anche molte poesie sociali, anche della natura, che parlano dell'attualità.